Dottor Mossarda, oggi la presentazione degli atti di un convegno che si è tenuto nel luglio del 2013. Si parlava di tutela di minori e di tutela delle donne. Di che si tratta? Oggi è una giornata importante perché sigliamo questo protocollo di intesa tutela delle donne, dei minori, soprattutto di tutti quei momenti terribili che vedono poi i protagonisti di crimini e di violenze, le madri, le donne e anche i bambini. Oggi siamo qui al Tribunale dei minorenni di Roma, ci sarà anche la sottoscrizione di questo protocollo tra Azienda Asle, Rumacca, il Comune di Albano che è il comune capofila di questo progetto e il Tribunale di Velletri e il Tribunale per i minorenni di Roma, proprio a siglaria una sorta di tavolo congiunto condiviso per elaborare programmi di prevenzione e di tutela della salute delle donne e dei bambini. Quale può essere nello specifico il valore di una sinergia tra forze dell'ordine da un lato, Asle dall'altro e poi tribunali che hanno il polso della situazione in fatto di reati? Questo significa creare una rete di protezione soprattutto per le donne, significa aprire una porta e un luogo dove è possibile per le donne essere ascoltate, essere aiutate nei momenti più difficili. Noi dovremmo cercare di intervenire prima che accada il dramma, per fare questo c'è bisogno di un concorso di responsabilità, di saperi e di responsabilità. Ecco, proprio in questi termini in che modo interviene un'azienda sanitaria locale? Come si viene a conoscenza di un problema e come lo si previene? Abbiamo un protocollo, in genere arrivano all'attenzione dei nostri consultori o nei nostri pronto soccorsi, quando già purtroppo è accaduto qualcosa. Il nostro protocollo ci dice come tutti gli operatori si debbono muovere, come debbono allertare subito la rete sociale di protezione. In questo il Comune di Albano ha già una grande esperienza ed è già portatore di un network regionale, quindi noi ci siamo inseriti in un filone straordinariamente significativo. Dottore, lei è uno psichiatra, come si può fornire un supporto psicologico in prima battuta ad una vittima di violenza se si tratta di minori oppure di donne? Beh, lo strumento più potente è l'ascolto, l'ascolto, la condivisione, la partecipazione. Questo deve fare un operatore che vuole aiutare veramente una donna che ha subito delle violenze.